La compagnia teatrale Arianna di Sulmona presenta Arte in Festival Sulmona 2012, 6, 7 e l'8 luglio al Parco Fluviale Augusto D'Aolio di Sulmona. Segui l'evento in diretta sulla 6 Radio, ci saranno anche le nostre telecamere. Ciao, sono Mario Billi di The Old School. Ciao, sono Luca, il bassista di The Old School. E anche noi saremo all'Arte in Festival il 6, 7 e 8 luglio. Rock a Mario Billi, Rolls!